Ciao, ciao, ho saputo che tra un po' arriva Natale, cosa volete voi? Che regalo volete voi per Natale? Quindi che regalo vuoi tu per Natale? Dea, Clementina, ciao, ciao, Giacomino, che regalo vuoi Giacomino per Natale? Brigettino, tu che regalo vuoi per Natale? Dylan? E voi? Chi vi vuole a voi per Natale? Eh? Ciao, Beatrice. Ciao, Beatrice. Gli bambino. Ciao Raffaella. Ciao Serena. Ciao Gio, ma a te una cicciona. Ciao. Ciao bimbi. E voi per Natale cosa volete, bimbi? Eh? Eh? Ciccina, e voi che volete? Più forte, Daniel, più forte. Vai, vai, Daniel, ti strugi tutto. Bella, Juma.